Venite perché vedere le foto e i video non è niente Tutto a posto Non mi ricordo niente, è bellissimo Ci vediamo l'anno prossimo Mi è piaciuto, è stata una bellissima esperienza Penso che ce lo rifare Ci vedremo l'anno prossimo Bisogna viverla Fantastica esperienza Tutto bene Organizzazione impeccabile come sempre È stato qualcosa di assurdo Dimenticabile Ogni anno è sempre più bello Io ho testo di dire qualcosa di interessante Una marea di culi I think you can ride on To 2050 Grazie mille